esci a caso prima l'ha fatto tutto a straight abidura a che ora? alle 8 e un quarto io mi sono stato stamattina a fare le 7 e mezza domani cominci a lavorare si ma vengono tutti in giù noi andiamo in su oh minchia ora provo anche spanti aspetta che arrivo parla con lui tanto in mal che vada siamo in 3 8 e un quarto a casa sua vedi sei già 9 e meno un quarto a casa mia oh di qua eh no di lì eh oh questo eh che è qui di là allora è inutile eh ma che ne so io l'ho anche visto non sono i trapensionati dai 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 non l'ho anche vista dai su una giornata abbiamo fatto un cazzo oserei dire di no eh no quelli sono un po' troppo alti quelli sono un po' troppo alti adesso mi metto su lì se non mi ammazzo non provarci eh ancora devi fare questo questo ah così aiaiaiai aiaiaiai allora che cacchio ruzza oh io non lo so una cavalletta porco diavolo poi tu stai a far fatica a pesare hai visto che non salta più vuoi dicendo sai perché mi ha passato la molla ah ecco mi ha passato la molla mi ha passato la molla per quello al vano ma in prima lo fai ah ecco mi sembrava me in prima allora 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 usa la prima spampi vieni su in prima prova prova no vieni su in prima piano tienila su e basta prova stanno facendo la superstrada più difficile eh oh bello 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 eh più guidata bello più penerzi demo non salta più non fa più come prima è molto più dai visto che sei tornato indietro non contiamo il piede visto che sei tornato indietro un pezzettino non lo contiamo ma adesso l'hai fatta in prima fatta in prima eh ah 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 ricordarsi di aprire il gas ma niente apri 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 via e allora chiodi la chiodigliela chiodigliela oh mi sta girando la testa di continuare figaro ma si vede eh prima l'ho fatta metterla da sotto lì così se cade addosso così mi schiacciano non fa rispondere sul piede non fa rispondere sul piede per forza è lì un po' più sicuro eh un po' più sicuro lì nell'angolo ma davanti dove si andrà la corsa bella più adesso voglio fare una cosa dai vai devo portare il gas sempre faccio un spaventaggio poi si spaventano vieni sto dritto che rischiano aiaiaiai occi occi oci figa la presa perchè c'era l'albero si eh si e finiva dentro in mezzo aanzonare nel giallo aanzonare nel giallo